Nel bollettino Covid delle ultime 24 ore ci sono 377 nuovi positivi su 1675 tamponi processati. Il tasso di positività è al 22,5%. Non si registrano decessi e nemmeno nuovi ricoveri, mentre al Cardarelli sono stati dimessi tre pazienti. Scende così a 28 il numero dei malati Covid in ospedale. Di questi due sono in terapia intensiva. Nel bollettino anche 325 guariti. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a due cifre solo in sei comuni. In testa Campobasso con 58, poi Termoli con 32 e Isernia con 28. Seguono Venafro con 19, San Martino in Pensilis con 16 e Boiano con 14 casi. Da segnalare in oltre 12 contagi tra pazienti e operatori sanitari nella RSA del Vietri di Larino. Come ogni venerdì è arrivato anche il settimanale monitoraggio sull'andamento della pandemia realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità. In Molise nell'ultima settimana RT in aumento, ma la regione passa da rischio moderato a rischio basso. Nel dettaglio l'indice RT passa da 1,01 a 1,44. L'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti è però in calo. Passa da 897 a 779. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto in aumento il dato dell'area medica che resta al di sopra della soglia d'allarme 17,6% era invece 15,9% la settimana scorsa mentre il dato della terapia intensiva resta stabile al 2,6%. Non è proprio il momento. La priorità della fruttura resta stato di eulomeno in 끝나z la r Teil 1 a 300.000 abitanti è la storia di 아마13,6% la dell'mniej Lois.